Il diabete è un nemico subdolo che colpisce fin da bambini. Padova è tra le prime città d'Italia ad offrire a tutti i minori un programma di screening del diabete di tipo 1. Una opportunità da accogliere perché questa forma di diabete cambia la vita e anche le aspettative di vita. Solo alla diabetologia di Padova sono in cura 250 piccoli pazienti con diabete di tipo 1, 50 con diabete genetico neonatale, 150 fratelli e sorelle, perché l'autoimmunità può insorgere fin dai primi mesi di vita o comunque nei primi anni di vita dei bambini. In Veneto ci sono circa 350.000 pazienti diabetici e il 10% circa è diabetico di tipo 1, quindi giovani che hanno comunque bisogno dell'insulina. Questi sono i numeri del Veneto e più o meno sono dei numeri come rapporto tra diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2 simili a quelle delle altre regioni. Il Veneto però è una delle regioni che ha un tasso più basso di diabete. Malattia che purtroppo colpisce i bambini e che è una malattia a tutt'oggi nel 2023 non ancora guaribile. La possiamo soltanto curare, tenere sotto controllo con la terapia insulinica. Terapia che purtroppo il bambino o il ragazzo diabetico deve assumere almeno 4 volte al giorno per tutta la durata della sua vita. È una malattia grave, una malattia silenziosa. Con questo progetto permettiamo soprattutto ai familiari di persone che hanno già il diabete in famiglia, permettiamo di poter capire se il loro destino è di sviluppare la malattia o comunque permettiamo anche a tutte le persone interessate, ai genitori e ai loro figli, di capire se c'è un destino di sviluppare il diabete nel futuro. In realtà l'85% delle persone che si ammalano di diabete di tipo 1 in età infantile o comunque durante l'inizio della vita adulta non ha una familiarità. Quindi è molto importante offrire questo programma. Come si accede a questo programma è molto semplice. Possiamo utilizzare la mail del programma, eccola che vedete, scrivendo questa mail gli operatori del centro valuteranno le indicazioni e poi daranno le istruzioni per poter accedere al programma. Che cosa prevede lo screening di per sé? È un semplice esame del sangue, un prelievo di sangue che permette nell'arco di circa due mesi di avere le risposte. Nel caso in cui le risposte siano purtroppo positive, quindi lo screening dimostri una predisposizione al diabete, si verrà poi incluso nel programma di sorveglianza e di monitoraggio da parte della diabetologia pediatrica. I sintomi del diabete di tipo 1 sono sintomi purtroppo molto sfuggenti che spesso vengono malinterpretati nelle prime settimane e nei primi mesi perché si parla di tanta sete, tanta pipì e sono quindi tante urine che possono sfuggire agli occhi di un genitore. Quindi questo fa perdere del tempo prezioso, tanta fame con il bambino che dimagrisce. Sono sintomi che indicano uno scompenso metabolico progressivo che quando si manifesta con i sintomi di cui abbiamo appena parlato è già molto avanzato perché purtroppo inizia molti mesi, spesso anche qualche anno prima della comparsa e non è possibile accorgersene. Il nostro sistema, il nostro programma di screening permette invece di accorgersene molto molto prima. Per il diabete, per la valutazione del diabete, il valore di glucosio nel sangue è sicuramente, o di emoglobina glicata, è una spia importantissima. Quando comincia ad essere più elevato rispetto a quella che è considerato il livello normale, è bene sentire il proprio medico perché può essere utile fare degli approfondimenti o ripetere il prelievo più semplicemente perché magari non erano state rispettate le norme di preparazione come il digiuno.